Buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Oggi è venerdì 17 marzo 2017 e questa è la rassegna stampa del mattino. Cominciamo con la lettura del calendario del giorno per vedere che santo è oggi e semmai festeggiare anche un onomastico. Oggi per esempio possiamo festeggiare e fare gli auguri a coloro che si chiamano Patrizio o Patrizia, San Patrizio di Armag. Il sole è sorto alle 6 e un quarto, tramonterà alle 18 e 17. Il cielo oggi sarà sereno e poco nuvoloso con il vento che soffierà fresco nelle zone interne già dalla serata, ma insomma nulla di che. Per domani sabato 18 marzo ancora cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento, ancora raffiche di vento forte soprattutto nelle zone della montagna in intensità e in attenuazione nel corso della serata di domani. Per domenica, domenica 19 marzo insomma potrà essere una giornata dedicata alle passeggiate, passeggiate sulle nostre splendide colline perché avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo e il vento sarà soltanto di brezza tesa da sud e poi può darsi probabile spostamento del promontorio anticiclonico e quindi può darsi che ci sarà qualche aumento dell'instabilità dalla prossima settimana ma staremo a vedere. Cominciamo a leggere i giornali andiamo subito sul resto del carlino alla pagina di Fano, polizza cinese da 3 milioni a garanzia di Duomo GPA, peccato non fosse valida, era stato stipulato, adesso è stato stipulato chiaramente un nuovo contratto ma i grillini tuonano, non era dunque valida questa polizza fideiussoria cinese da 3 milioni di euro presentata da Duomo GPA e che avrebbe dovuto garantire il comune di Fano da eventuali irregolarità nella riscossione dei tributi. Gli abitanti di Ponte Sasso, i residenti di Ponte Sasso di Fano hanno vinto la loro battaglia, i baby profughi saranno ospitati altrove, la labirinto infatti rinuncia all'ex colonia, si cercano nuovi spazi, dunque Ponte Sasso non ospiterà più i 32 profughi minori, lo assicura il consigliere comunale di Noi Giovani Mattia De Beneditti se lo conferma l'assessore dei servizi sociali Marina Barniesi a cui nell'ultimo consiglio comunale le aveva rivolto insomma un'interrogazione. E De Beneditti dice non è detto che la nuova destinazione sia sempre Fano, ci sono infatti anche Pesaro e Lunano. Questa è la fotografia invece pubblicata questa mattina che riguarda un vecchio sopralluogo del sindaco Seri con l'assessore Barniesi all'ex colonia mater purissima. Il traino mediatico lancia il Carnevale, i debuttanti assaporano la vittoria più dolce, guagliate le presenze del 2016, la prossima edizione invece sarà green. Maria Flora Gianmarioli, presidente della Carnevalesca, dice ci diamo un 6 pieno e restiamo aperti ai suggerimenti di tutti. Mentre attenzione stasera sulla 7 c'è Jeffrey Di Bartolomeo in televisione a eccezionale veramente alle ore 21 circa c'è il debutto di Jeffrey Comico Fanese che parteciperà a questo format di Abba Tantuono. Sbloccati 318 mila euro per scuola e mura siamo a Cartoceto, la materna di Lucrezia e la messa in sicurezza della cinta muraria entro la fine dell'anno. Nella fotografia oltre al sindaco Enrico Rossi c'è anche il rendering della scuola dell'infanzia in costruzione a Lucrezia. La struttura sarà moderna, antisismica, efficiente con ampi spazi laboratoriali. A Urbino invece è pace fatta tra lo studente e la suora. Il video che è stato girato dagli amici del ragazzo è diventato ormai virale ed è molto commentato. Il giovane che questionò per il baccano notturno ha già parlato con la religiosa. Ho parlato dice con i vicini, intanto le casse per la musica a casa non ci sono più. Trovato morto in camera oggi i funerali di Gianni, il pensionato di 73 anni che tutti conoscevano. Si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Monte Felcino. I funerali di Giovanni Brunetti, 74 anni. L'uomo trovato morto mercoledì mattina in camera sua al primo piano dello stabile che una volta ospitava il circolo del paese nella minuscola frazione delle ville di Monte Felcino a poche centinaia di metri dal capoluogo. Ogni giorno faceva il suo giretto Gianni o quasi insomma scendeva da Monte Felcino fino a Fossombrone. Adesso andiamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico. Doccia fredda, Ladini, Salvalai, comune muto, facciamo da soli. Alla Fano Fortuna serve una nuova caldaia, intanto rimedia comprando un accumulatore. Mentre c'è stata questa fuga lampo del piromane dei ristoranti, ricorderete quello che incendiò il 29enne di origine Lettone, evaso martedì sera dalla comunità di Sasso Corvaro nella quale doveva scontare gli arresti domiciliari, diede fuoco a due ristoranti nel centro di Fano nel novembre dell'anno scorso. A un certo punto non ha fatto più rientro nella comunità di Sasso Corvaro appunto ed è quindi stato di nuovo arrestato per evasione. Oggi c'è il processo, questa mattina per direttissima. Domani invece ci sarà l'addio a San Giorgio, all'uomo morto in via Papiria. Nessuna autopsia, si tratta di un malore fatale che lo ha colpito mentre guidava la sua automobile. Domani dunque l'ultimo saluto a Giuseppe Carugati, 50 anni, colpito da malore mercoledì mattina mentre era alla guida della sua Fiat Multipla che si è scantata contro un albero in via Papiria a Fano. La salma partirà alle 14.30 dall'obitorio di Fano per raggiungere la chiesa dei Santi Giorgio e Pasquale a San Giorgio dove l'uomo viveva ormai da diversi anni insieme alla compagna e alla figlia. Questo è il Corriere Adriatico. Ancora dal giornale delle Marche, aset entrate, le riscossioni sotto la lente, 5 Stelle dicono si deve vigilare ancora, prima volta in garanzia e controllo dopo la scoperta della polizza falsa da 3 milioni, contratta dalla Duomo. Il Presidente Scavolini dice che il periodo è critico, periodo critico superato, l'avvertenza sindacale è dunque rientrata. Il Carnevale, il bilancio che è stato fatto ieri mattina in conferenza, è un Carnevale che ha i numeri e arriva il fondo da 80 mila euro, affluenza record, eventi paralleli mai visti e dal concorso nazionale piovono tanti soldi. Il sindaco parla di successo soprattutto decretato dal pubblico, sono stati venduti 14 mila circa biglietti, 6 mila prendigetto, mentre sotto la pubblicazione della foto con le scritte anarchiche nel quartiere di Sant'Orso, sempre a Fano, città dei bambini con scritte anarchiche a scuola, il segretario dei Fratelli d'Italia Montalbini attacca il restyling a Sant'Orso tra annunci e imbrattamenti. Dalla Valle del Cesano invece la questione del passaggio a livello, quello della discordia, la convenzione non era firmata, accesso agli atti dell'ex assessore Lucchetti, nessuna fide di uscione al 30 settembre 2016, mentre a Mondolfo la spaghettata candida da sport e, scusate, condita da sport e beneficenza per l'autismo in crescita, la storica manifestazione organizzata dall'Avis e da altre associazioni. Questo è un momento della conferenza che abbiamo seguito anche noi di Fano TV ieri appunto nel comune di Mondolfo. Da Senigallia invece i forzati degli uffici comunali devono saltare anche le ferie, dipendenti comunali staccano visti per necessità e spirito di abnegazione, invitate dal dirigente alle risorse umane ad andare però in ferie. Hanno ricevuto un sollecito affinché consumino quelle del 2016 entro il prossimo mese di aprile. Il delitto Lulli, ergastolo giudicato eccessivo dai legali dei due accusati, Meta e Mema, e dunque i legali vanno al contrattacco, c'è questa strategia dei difensori, si passa al contrattacco tra reazioni, profili psicologici e risultanze tecniche che lasciano dubbi. Il PM Irene Lilliu ha formulato le richieste di condanna per Igli Meta e Mario Mema, imputati per concorso in omicidio di Ismaele Lulli il 17enne ucciso a San Martino in Selva Nera di Sant'Angelo Invado il 19 luglio del 2015. Dunque ergastolo per entrambi compare contributo all'esecuzione del delitto e le reazioni sono opposte. Chiudiamo con le due pagine del Corriere Adriatico che riguardano Pesaro. Eccole qua, nuova piazza per Baia Flaminia, raddoppia il cuore della Movida, un progetto di riorganizzazione viaria per Largo Berlino dove oggi si concentra il polo del FUD e poi di qua invece vedete la crociata antibuche del sindaco Matteo Ricci che sta facendo un giro, un tour intorno, tutto attorno alla città quindi nei vari quartieri e lo fa spesso in bicicletta e dunque si sta rendendo conto di come sono ridotte le strade, alcune strade soprattutto quelle rattoppate e che sono state fotografate dallo stesso sindaco Ricci che tra l'altro insomma critica anche marche multiservizi e nel mirino finiscono i lavori eseguiti dall'azienda e lui dice mai più simili rattoppi. Con questo chiudiamo qui la nostra rassegna stampa cari amici che ci seguite da casa ci rivedremo stasera alle 20.30 nel corso del telegiornale occhio alla notizia ma mi raccomando segnatevi questo numero sul vostro cellulare sotto la voce Fano TV e qualunque cosa accada segnalatecelo faremo le nostre verifiche e poi lo tratteremo nel nostro telegiornale che poi anche il vostro telegiornale. Grazie per averci seguito buona giornata a tutti.